Paolo, Napoli-Siena, buon pomeriggio da Riccardo Trevisani e da Maurizio Iorio. Il Napoli arriva con soli quattro punti nelle prime cinque partite di campionato per il Napoli. Oggi è quasi la resa dei conti. Maccarone dalla parte opposta a Ghezzal. Maccarone non lo può vedere perché è girato. Adesso Maccarone cerca al centro Abdelkader Ghezzal che cerca un gran gol. Lancio per Lavezzi, posizione regolare, sbaglia del grosso, Lavezzi recupera il pallone. Sta arrivando Maggio, lo senta alle sue spalle Lavezzi, passa Maggio, finisce giù. Non è calcio di rigore ma è calcio d'angolo. Qui però è calcio di rigore. Visto così è calcio di rigore. Eccolo Cigarini, la mette in mezzo per Cannavaro. Blocca il pallone Gianluca Curci. E' partito Dattolo in posizione regolare, lo vede Gargano, posizione regolare per Dattolo. Può mettere raggiù l'Argentino in area di rigore. Dattolo al centro, non la prende nessuno, Maccio! E sulla riga del grosso, salva il gol del 1-0. Fini si butta dentro Vergassola, Fini va uno sguardo al centro, poi crossa in mezzo. Terzi ci arriva con il destro, ma manda la palla alta. Quagliarella, attenzione, il cross in mezzo all'area Maggio. Amsic, la vezzi, la palla la prende in realtà. Dattolo! E poi arriva Amsic per il quarto gol in campionato. E lui, il capocannoniere del Napoli, che si aggrappa a Marek Amsic. 1-0. Maccarone in area di rigore, il controllo di Big Mac, che la mette giù sul destro. Maccarone in area di rigore, ancora Maccarone. Fino in fondo! 1-1, Big Mac, secondo gol in campionato. Bellissimo! È grandissimo, Maccarone ha fatto un gran gol. E senza però nulla togliere a Maccarone, devo dire che la difesa del Napoli è stata assolutamente morbida. Quagliarella, in mezzo a due, resiste, diventano quattro, passa ancora Quagliarella, zona tiro per uno come lui. Quagliarella dentro per la vezzi, c'è un tocco di mano, calcio di rigore! Calcio di rigore per il Napoli! Ha deciso Valeri! C'è calcio di rigore per il Napoli al minuto 17 del secondo tempo. Il fischio di Valeri. Parte Amsic, Curcide spinge ancora Amsic! Rigore sbagliato, ma poi trasformato. Napoli in vantaggio, doppietta del 17. A metterla in mezzo, dato lo verso Guagliarella la prende Cannavaro. E la manda alta sopra la traversa, seconda opportunità per Cannavaro nella partita. Vicina al 3-1 il Napoli. È finita, ha vinto il Napoli, 2-1 con la doppietta di Mare Amsic. In mezzo il gol di Maccarone. Il Napoli torna alla vittoria, quasi un mese dopo. Non era una partita facile, però abbiamo sofferto. Però alla fine abbiamo vinto, quello è importante.